In questa puntata di Unicam News, l'inaugurazione dell'ospedale veterinario, parleremo del festival d'arte elettronica e degli auguri solidali di Unicam quest'anno con l'associazione Avsi. Infine, un nuovo successo a livello internazionale per l'Università di Camerino. Ben ritrovati dalla redazione di Unicam News, abbiamo sentito i titoli di questa puntata, allora possiamo iniziare subito con il primo servizio. Cerimonia davvero solenne, quella per l'inaugurazione dell'ospedale veterinario universitario didattico dell'Università di Camerino, che si è tenuta lo scorso 16 dicembre, nella splendida cornice del Teatro Piermarini di Matelica, alla presenza di numerose autorità civili, militari, religiose e accademiche, dei docenti e degli studenti, sono intervenuti il rettore dell'Università di Camerino, Flavio Corradini, il sindaco di Matelica, Paolo Sparvoli, il direttore della Scuola di Scienze Mediche Veterinarie, Giacomo Renzoni, il direttore sanitario dell'ospedale veterinario universitario didattico, Andrea Spaterna, mentre il professor Stefano Rea, docente della Scuola di Scienze Mediche Veterinarie e coordinatore della Commissione Interna per la valutazione EAEVE, ha dato lettura dell'Exit Talk presentato dalla Commissione EAEVE. Ci si è poi trasferiti presso la sede dell'ospedale per il taglio del nastro ed una visita sia alla struttura per i piccoli animali che a quella per i grandi animali. Ascoltiamo allora il professor Spaterna. Di grande soddisfazione anche per le difficoltà che abbiamo incontrato in un momento congiunturale economico così difficile per realizzare questa struttura che peraltro oggi già considerata una struttura sanitaria di eccellenza, non tanto perché siamo noi a sostenerlo quanto perché è un'agenzia autorevole europea che lo ha deciso e lo ha stabilito. È un'agenzia chiaramente molto credibile in quanto superpartas. Il compito di questa struttura è oltre che chiaramente didattico in quanto fa parte della Scuola di Scienze Mediche Veterinarie è anche quello di porsi al servizio del territorio per gestire insieme al territorio tutta una serie di problematiche sociali e sanitarie e anche vuol assumere un significato di grande e profonda collaborazione con un mondo libero professionista che può trovare in questa nostra struttura ospedaliera una struttura appunto di servizi a loro disposizione. Io credo che sia fondamentale che oggi più che mai l'università si metta al servizio del territorio con il valore aggiunto da parte di quest'ultimo di poter trovare nell'ambito universitario delle competenze che spesso disconosce ma che invece ha portata di mano e quindi credo che il territorio debba in qualche maniera approfittare di questa opportunità. E all'Università di Camerino è tornato il Festival d'Arte Elettronica. Lo scorso giovedì 15 dicembre infatti la sala della Muta e il Palazzo Ducale di Camerino sono stati lo scenario per la presentazione della nuova edizione del Festival che torna a Camerino dopo il grande successo delle edizioni svoltesi anni fa. La giornata si è aperta con la sessione di laurea in informatica. Alle 12.12 e 12 minuti sono state aperte ufficialmente le installazioni di arte elettronica ed una mostra con foto e video delle teche RAI delle edizioni passate che sono state aperte e visitabili fino al 17 dicembre. Si è ripreso poi nel pomeriggio con la tavola rotonda Camerino e Arte Elettronica, ieri, oggi e domani, coordinata dal professore Alberto Polzonetti, docente Unicam di informatica e promotore e curatore dell'evento. come lo fu delle passate edizioni. I professori Valerio Franchina e Mario Giannella hanno poi premiato gli ex studenti della scuola diretta a fini speciali in informatica dell'epoca. Intanto c'è un'importanza storica perché Camerino tradizionalmente negli anni passati aveva queste giornate di confronto tra tradizione, arte ed elettronica. Quando ho iniziato a frequentare le università di Camerino mi parlavano tutti di questo festival e in effetti il primo fax in Italia è stato presentato qui e questo ovviamente ci onora. Lo vogliamo riproporre, lo vogliamo fare con le aziende che storicamente si occupano di questo mix a vantaggio dell'innovazione, dell'innovazione tecnologica del nostro territorio, del territorio nazionale ed internazionale. E' una manifestazione che guarda al futuro senza lasciare la tradizione. Guarda al futuro perché siamo convinti che i nostri giovani studenti e i giovani imprenditori che la nostra terra ha in questo periodo possano contribuire a realizzare delle idee veramente innovative, delle idee artistiche da un punto di vista elettronico. Al tempo stesso siamo vicini alla tradizione perché questi eventi si svolgono in luoghi che rappresentano il passato di questa città, è un passato molto lontano ma che è stato molto importante. L'appuntamento con il Festival di Arte Elettronica è ora per il 2012. E anche per le festività di quest'anno l'Università di Camerino vuole augurare una serena Natale ed un felice 2011 attraverso gli auguri solidali. L'Ateneo ha scelto di sostenere il progetto Le collane di rose promosso dall'associazione AVSI per aiutare le donne di Kampala in Uganda ad offrire ai propri figli un futuro migliore. Sono collane di perle di carta riciclata realizzate da donne dell'Uganda malate di AIDS che hanno il desiderio di assicurare un futuro ai loro figli, desiderio che è più forte della loro malattia. Per sostenere con Unicam questa iniziativa basta recarsi presso il punto informativo dell'Ateneo al Palazzo Ducale di Camerino e facendo un'offerta si riceverà in cambio una collana. Unicam e AVSI ringraziano e augurano ovviamente un sereno Natale. E' ancora un successo a livello internazionale per l'Università di Camerino nell'ambito dei progetti ministeriali sulla cooperazione interuniversitaria internazionale su 31 progetti finanziati tra gli oltre 900 presentati, ben due progetti sono di Unicam. Ne abbiamo parlato con il prorettore Claudio Pettinari che è anche la delega per l'internazionalizzazione. Ascoltiamolo. I due progetti che sono stati approvati dal ministero nell'ambito della call Copperlink rappresentano sicuramente una percentuale altissima per quel che riguarda il panorama nazionale. Ben 900 progetti presentati, solamente 31 sono stati approvati e tra questi 31 Unicam ne ha due. Il primo approvato per la cooperazione interuniversitaria con l'Università di Chang nel Camerun è un progetto che riguarda la chimica, è un progetto coordinato dal professor Barboni ed è rivolto all'estrazione di principi farmaceutici da piante medicinali. Questo primo progetto riguarda lo scambio di dottorandi che si muovono dal Camerun verso l'Italia e dall'Italia verso il Camerun per svolgere questo congiunto progetto di ricerca. L'altro progetto è invece un progetto di studio, in questo caso con l'Università di Catamarca dell'Argentina grazie a questo percorso di mobilità muovendosi appunto da Camerun verso Catamarca e da Catamarca verso Camerun. Alla fine avranno un titolo che è riconosciuto da entrambe le istituzioni e che quindi ha un forte valore aggiunto. È chiaro che queste attività, questi progetti di cooperazione servono a fare incrementare quei valori di mobilità che oggi costituiscono uno degli indicatori che danno premialità agli Atenei italiani. Bene, con questo è tutto anche per questa edizione di Unicam News. L'appuntamento è per mercoledì prossimo alla stessa ora. Tutte le informazioni che desiderate sull'Università di Camerino, lo ricordo, le trovate nel sito www.unicam.it. Dalla redazione di Unicam i nostri migliori auguri per un sereno Natale. Vi lascio a questa clip. Grazie a tutti. Grazie a tutti.